Stangata per i vertici della cosca Piromalli nel processo denominato Provvidenza, il Gup distrettuale di Reggio Calabria condannato 11 delle 19 persone coinvolte nel procedimento contro il potente clan di Gioia Tauro, nel quale risulta imputato Antonio Piromalli, condannato a 20 anni di carcere, pene pesanti anche per la filiera di comando che agiva sotto le direttive del reggente della famiglia Gioiese. Tra questi spiccono le condanne a 20 anni di carcere di Domenico Stanganelli, a 19 di Pasquale Guerrisi e a 18 di Carmine Alvaro. Escono assolte invece Loredana Sciacca e Grazia Piromalli, rispettivamente moglie e sorelle di Antonio. Accolta dal Gup, quindi parzialmente le richieste avanzate dal sostituto procuratore antimafia Giulia Pantano, che aveva invocato 232 anni di carcere per tutti gli imputati. L'indagine Provvidenza gira sulla figura di Antonio Piromalli, 45enne figlio del boss Pino detto Facciazza, da 20 anni obbligato al carcere duro, ma per la DDA sempre al centro del progetto criminale della cosca e della città del porto. Il giovane Piromalli si sarebbe trasferito a Milano per abbassare l'attenzione degli investigatori sul clan e potere sviluppare nuovi traffici illegiti. Nel capoluogo Lombardo, Piromalli avrebbe istituito la nuova base operativa. I nuovi business lo avrebbero portato fino alla grande distribuzione degli Stati Uniti, ma gli affari di Antonio Piromalli non prevedevano confini, ortofrutta, edilizia, turismo, centri commerciali in Italia e negli Stati Uniti, in Romania e in Francia. Un clan, quindi, che pensa in grande ma che resta, secondo i magistrati antimafia, con i piedi ben piantati a Gioia Tauro, dove può contare su una pletora di affiliati e fiancheggiatori sempre pronti a eseguire gli ordini dei signori della Piana. Francesco Altomonte per la Cineus 24.